Il mondo dello sport ha celebrato i 40 anni di Francesco Tocchi, tra Napoli e Roma c'è una rivalità, lei se la senti fargli gli auguri? C'è una rivalità sportiva che non deve mai eccedere, mai andare in violenza e questa città in questo vuole scrivere una pagina importante. Poi altra cosa è per chi ama lo sport e ama il calcio l'apprezzamento dei grandi campioni, Francesco Totti è stato ed è un grande campione, onore quindi a chi ha speso una vita per il calcio e l'ha fatto con fantasia, con passione, con genio e sregolatezza come anche Francesco Totti. Io poi mi auguro che ci sia sempre una sana rivalità sportiva perché fa parte del calcio con la Roma come con qualsiasi altra squadra però veramente basta, basta, basta alla violenza perché noi vogliamo andare allo stadio, andare tutti quanti tranquilli con i bambini, con i ragazzi, con le donne, con gli anziani e non stare ogni volta col timore che possa accadere qualcosa. Lo sport è anche un messaggio di pace, di solidarietà, di fratellanza e anche di accoglienza nella propria città di tifosi che vengono da altre parti d'Italia o del mondo. Visto che è del mondo parliamo di stasera, forza Napoli! Grazie!